Cambio il sigillo dietro di me va che non mi piace Tenshin ok Ok Anche Lotus lo dice Carpo Jupiter 2930 Ma si tranquillissimo Ma cos'è? Boh Missione E non lo dice? Che è figlio di puttana come Tenshin Vediamo quanto dura sta quest Siamo in tre, dura a metà di un'ora Cioè 30 minuti e abbiamo finito E più persone siamo meno dura la quest Secondo voi ci saranno parti in cui si deve fare in singola forza? Secondo me l'ultima parte è come sempre Come anche Secondo me è quella parte che si è vista nel trailer con l'operatore Di certo Oppure con tutti gli operatori Non mi stai in fortescina Questa è una volta come è Fine Why hasn't he reached out to us? If he pursuono the queens We can help Non vengazzar Wee Wee come come ci si può fidare di lotus ed è inizio continua a dire che la tos si sta manipolando no ma io continuo a dire che la mente di rotos è manipolata da no totalmente e tension scandalizzalo vabbè è qua arrivo intanto si ferma e diventa immune non prende danno per te come vuoi è bene che ti slowa pure ok ciao well done no decryptola da tutto mister robot lotus no scassi arciana micchia no c'ho i colori un po' cazzo su steinberg ma vabbè ma quando mai eh è il tuo personaggio eh questa missione senza la lore madonna cioè partiamo con una missione con tanta lore come la prima ma perché stiamo tentando di capire dove è la posizione di tension ovviamente tension intanto manda dagli spectre in giro per le missioni a caso a correre da correre allora corron tesh inspector point to what should be an unpopulated asteroid field but deep scans show the presence of a security matrix so what is trying to hide something i need you to find out what prepare your archwing oddio l'archwing no ottimo ottimo si va raga aspettate eh so prontissimo livello 30-32 oh che bello che bello che bello eh 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 è vero che le hai livellate tutte al 30 te ah la dobbiamo fare da sole ah da sole e ciao raga grazie a tutti